Armin Bacinovic, qui a Terni con quali propositi, con quali obiettivi? No, obiettivi possono essere diversi, quindi il mio primo obiettivo è sicuramente raggiungere salvezza con Ternana, questo prima. Poi ci sono pure diversi personale, per qualcosa di più poi vediamo alla fine, però il primo obiettivo è sicuramente la salvezza. Non è andata bene l'anno scorso, a livello personale non possiamo dire che a livello di squadra con il Lanciano è andata assolutamente bene, c'è da riscattare un po' anche quella stagione. A livello di squadra noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, noi abbiamo raggiunto la nostra salvezza, poi quelle altre cose non voglio parlare, quindi sicuramente c'è voglia di riscattare, però iniziamo già da sabato. Senti, la condizione fisica, diciamo per uno quando arriva in un ambiente nuovo, la prima cosa che si chiede è come va la condizione fisica? No, sicuramente non sono top, quello è sicuro, ho fatto il ritiro, almeno questo, poi adesso cercherò di dare ogni elemento massimo e poi alla fine vediamo cosa deciderà il mister. Contento di questo arrivo qui a Terni? Certo, questa era la mia prima scelta dopo quello che è successo a Salerno, quindi sono contento qui. Senti, ci illustri, noi ti conosciamo, voglio dire, centrocampista dei piedi buoni, abbiamo buona visione di gioco, non so se centriamo appunto quelle che sono le qualità di Armir, ma ci confermi te? Ma io spero quest'anno che faccio bene, ma non solo io, tutta la squadra che fa bene, è molto importante, non gioco solo io, non gioco a un altro, non gioco a quello, giochiamo tutti insieme e se facciamo tutti bene è facile per ogni giocatore. Le due qualità tecniche però quali sono? Più impostazioni in gioco, un po' di tiro di favore, vediamo. Grande tecnica da migliorare nel dinamismo forse? No, migliorare, c'è sempre da migliorare, poi speriamo che migliori quest'anno. L'ultima cosa, che cosa chiedi a questa stagione? La domanda è un po' scontata, un po' per tutti. Salvezza, sicuro, prima o poi altro, non voglio parlare. Bocca al lupo. Grazie.